Meningite non contagiosa, conferma della ASL per la morte della donna di Celano. Arresti per furti nel capoluogo, sei stranieri in manette per decine di colpi. E' morto il professor Gaspare Carta, dolore e cordoglio del mondo scientifico. Raccolta rifiuti, lavoratori a rischio sono quelli che operano a Sulmona per la Coggesa. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. E' stata una forma di meningite non contagiosa la causa del decesso di una donna di Celano di 61 anni. Si tratta di Ioli Zaurrini Fioraia. Nei giorni scorsi aveva accusato un malore, è stata subito trasportata all'ospedale di Avezzano, dove è stata dimessa poco dopo. La donna è deceduta martedì scorso nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Avezzano, a seguito di alcune complicazioni. La ASL, confermando la patologia non contagiosa, ha escluso il pericolo per i pazienti ed il personale medico e paramedico, tanto è vero che non si è ricorsa neppure alla procedura di profilassi. La notizia ha scosso l'intera comunità di Celano, dove la donna era molto conosciuta non solo per l'attività che svolgeva e che l'ha portata a contatto con centinaia di suoi concittadini. In ogni caso, proprio per escludere ogni possibile dubbio, il sostituto procuratore della Repubblica di Avezzano, titolare dell'inchiesta, il dottor Maurizio Maria Cerrato, ha disposto l'autoposia che verrà eseguita domani. I responsabili di una serie impressionante di furti commesse all'Aquila sono state arrestate per ben cinque persone, mentre una sesta è ricercata. In particolare sono state prese di mera caldaie nuove per il riscaldamento in abitazioni ricostruite di recente nel centro storico dell'Aquila. Sei esercizi commerciali, autovetture ed attrezzature all'interno dei cantieri edili collegati alla ricostruzione post-sisma ed infine un tentativo di furto ai danni della COP di Scopito avvenuto alla fine dello scorso mese di dicembre. Per tutti questi reati, nella notte di mercoledì 23 gennaio, i carabinieri della Compagnia dell'Aquila, coadiuati dai carabinieri della Compagnia di Pescara, Ostia, in provincia di Roma, ed Abbiate Grasso, in provincia di Milano, hanno arrestato cinque cittadini di nazionalità romena di 33, 32, 24, 36 e 35 anni. Il sesto uomo è ricercato. I sei, all'epoca dei fatti, vivevano all'Aquila tra dicembre 2017 e dei primi mesi del 2018, tutti disoccupati, pregiudicati e dediti a tempo pieno alle attività illecite. Due degli arrestati sono stati inchiusi nel carcere Le Costarelle dell'Aquila, tutti gli altri sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni. Ad illustrare oggi l'operazione, è stato il comandante della Compagnia Carabinieri dell'Aquila, Luigi Balestra, ed il tenente Maximiliano Papale, che ha così ricostruito l'intera operazione. Le indagini sono partite a seguito del tentato furto della Coop. Esaminando le riprese delle telecamere, abbiamo individuato una persona, a noi nota, un uploadi pregiudicato. Un primo indizio che ci ha consentito di risalire, attraverso le intercettazioni telefoniche, a tutti gli altri componenti della banda e dunque di assicurarli alla giustizia. Nel corso dell'attività è stato possibile accertare il modus operandi utilizzato dai malfattori che operavano prevalentemente di notte. I furti erano tutti preceduti da una attività di sopralluogo, luogo molto attenta, finalizzata alla individuazione delle abitazioni da derubare, tutte ristrutturate a seguito del sisma del 2009 e non ancora abitate. Questa scelta permetteva loro di agire indisturbati all'interno delle abitazioni senza correre il rischio di essere sorpresi. Una volta all'interno, i malviventi asportavano principalmente le caldaie, tutte nuove e non ancora utilizzate, e facilmente quindi da poter immettere sul mercato. Nel corso dei ride, i ladri hanno asportato anche numerosi punti luce, impianti elettrici e attrezzature tra le più costose, come demolitori e trappani professionali. Parte della rifurtiva, per un valore di circa 50.000 euro, è stata recuperata. Lutto nel mondo scientifico e culturale aquilano. Oggi, all'età di 68 anni, è morto Gaspar Recarta, ginecologo, professore universitario ed ex direttore dell'unità operativa complessa di ginecologia ed ostetricia dell'ospedale dell'Aquila e di Avezzano. Il medico aveva dovuto lasciare da tempo i suoi incarichi in ospedale e i suoi impegni da docente a causa di una lunga malattia. Consapevole di non poter più combattere contro il male che lo aveva colpito, aveva avuto la forza di renderlo noto a tutti con una propria lettera diffusa attraverso i social. Ci piace rileggere alcuni passaggi scritti con impressionante lucidità il 16 ottobre dello scorso anno. Care amiche e cari amici, per quasi 40 anni ho avuto il privilegio di svolgere una professione meravigliosa che mi ha permesso di avere, con decine di migliaia di persone, un rapporto bellissimo fondato sull'affetto, la comprensione, la stima e la fiducia. Purtroppo, prosegue carta, da un anno circa sono stato colpito da una malattia più grande e forte di me che mi sta indebolendo progressivamente e mi costringe a prendere la decisione di ritirarmi anticipatamente dall'attività lavorativa sia assistenziale che accademica. Scrivo queste poche righe, conclude, per informarvi di ciò, ma soprattutto per esprimere la mia gratitudine a tutti ai pazienti, alla famiglia, agli amici, ai numerosi medici, infermieri, ostetriche, studenti, colleghi e all'infinità di persone con cui ho condiviso gioie e dolori e che hanno reso, a mio modesto avviso, la mia vita degna di essere vissuta. Mi affido nelle mani del Signore che ringrazio infinitamente per tutto ciò che mi ha dato e vi abbraccio con tanto affetto. Mi mancherete. Ai familiari giungono anche le nostre più sentite condoglianze. E sulla morte del professor Carta è intervenuto il manager dell'Asla Avezzano sul Monalacuila, Rinaldo Tordera, che lo ha definito carismatico e competente, un gigante di bravura e umanità, un ambasciatore in Italia della nostra sanità. In lui, scrive, convivevano in mirabile equilibrio l'affettuosa umanità della persona e la profonda competenza del professionista. Lo conoscevo da molto tempo, prosegue Tordera, ma quando sono arrivato alla guida dell'Asla ho apprezzato ancora più a fondo lo spessore personale e professionale del professor Carta con cui confrontavo quasi tutti i giorni sulle tematiche sanitarie e su quelle del suo reparto. Il professore del resto, oltre ad essere una straordinaria risorsa per l'ospedale dell'Aquila e un patrimonio di esperienza per la stessa sanità della regione, interpretava da anni, grazie al suo carisma, il ruolo di ambasciatore dell'Asla in Italia e fuori. Ciò era dovuto alla sua consolidata credibilità riconosciuta durante i prestigiosi convegni che organizzava e cui partecipava anche all'estero, tra cui quello di qualche anno fa in Cina dove fu accolto con deferenza dai massimi luminari locali della disciplina. Una autorevolezza che gli derivava dalla competenza e dalla costante disponibilità che manifestava con tutti, senza ostentare mai susseguo. Se ne va un uomo che è dato tanto a tutti e che voglio salutare con accenti di grande commozione esprimendo il cordoglio e la vicinanza a tutti i familiari. La nostra sanità per di oggi è un gigante di bravura e di affidabilità. L'ordine degli architetti della provincia dell'Aquila contro la decisione del Ministero dei Beni Culturali che nel decreto sul completamento della riorganizzazione del Ministero dei Beni Ambientali ha assegnato a Chieti la sede della Sorintendenza Archeologica Belle Arti e Paisaggi d'Abruzzo. L'ente accorperà la Sorintendenza Archeologica di Chieti e la Sorintendenza Belle Arti e Paisaggi dell'Aquila. Un vero e proprio scippo lo definisce Edoardo Compagnone, presidente dell'Ordine Provinciale degli Architetti secondo la riforma del Ministero. Chieti avrà la sede della Sorintendenza regionale già trasferita in via provvisoria nel 2016 con esclusione fino al 31 dicembre 2019 della Sorintendenza Archeologica delle Belle Arti e Paisaggi per la città dell'Aquila e dei comuni del Cratere. Si tratta dell'unica Sorintendenza regionale in Italia che non ha sede nel capoluogo di regione. Tutto questo mentre all'Aquila si stanno compiendo grandi sforzi per riportare uffici e sedi di associazioni pubbliche e private necessarie per rivitalizzare il tessuto sociale ma anche economico del territorio. L'Ordine degli Architetti annuncia una mobilitazione di massa. Nel prossimo Consiglio Direttivo, dichiaro a Compagnone, valuteremo tutte le azioni di protesta da intraprendere a breve contro questa decisione scellerata che costituisce un altro gravissimo colpo inferto alla città dell'Aquila. Rivendichiamo la sede regionale della Sorintendenza ai beni archeologici e monumentali che non può essere delocalizzata dall'Aquila dove è sempre stata fino al 2016. La rivendichiamo come categoria essendo gli unici professionisti titolari ad operare nell'ambito dei beni vincolati. Compagnone ricorda inoltre come all'Aquila vi sia la maggiore concentrazione di palazzi, monumenti e chiese vincolate dalla Sorintendenza. Un patrimonio enorme e di grandissimo valore in buona parte ancora da ristrutturare dopo i danni del sisma del 2009. Anche alla luce di ciò appare assolutamente incomprensibile la decisione del Ministero di scegliere Chieti per la sede della Sorintendenza d'Abruzzo. Gli architetti sono pronti alla mobilitazione. Chiediamo al sottosegretario dei beni monumentali e culturali Gianluca Vacca di tornare sui propri passi e garantire la sede regionale della Sorintendenza alla città dell'Aquila, città che dice di avere particolarmente a cuore. Domani, venerdì, presso l'azienda Cogesa di Sulmona si trarrà un importante incontro sindacale con l'amministratore unico dell'azienda e con il comitato ristretto dei sindaci dei comuni soci del Cogesa. L'argomento all'ordine del giorno sarà la delicata questione dei lavoratori con contratto a tempo determinato. I responsabili del sindacato di settore CGL Cisluil ricordano ancora una volta che questi lavoratori svolgono il servizio di raccolta dei rifiuti nella zona della Valle Peligna ed Alto Sangro e nei comuni della provincia dell'Aquila che vanno da Caporciano passando per Navelli, Barisciano, Poggio Vicenza e San Demetrio fino a scendere nei comuni di Sant'Eusano, Villa Sant'Angelo, Fossa per poi arrivare attorno in parte scopito solo per citarne alcuni con le relative frazioni. 10 unità hanno cessato l'attività lo scorso 31 dicembre ed altre decine di contratti scadranno il prossimo 31 marzo. Chi garantirà a partire dal prossimo primo aprile la raccolta dei rifiuti nei comuni di questi territori? Si chiedono, ad avviso dei sindacati, l'incontro di domani dovrà essere finalizzato ad un accordo sindacale per il mantenimento di tutti i livelli occupazionali attraverso la verifica delle coperture economiche atte a garantire la dovuta continuità salariale di tutto il personale e l'analisi dei carichi di lavoro all'interno della stessa organizzazione del lavoro aziendale. Evidenziano che questi lavoratori, a tempo determinato, sono impegnati nel servizio di raccolta dei rifiuti da più di un anno e che pertanto hanno acquisito competenza, capacità, condaun, padronanza degli otto mezzi e conoscenza del territorio divenuti patrimonio lavorativo da tutelare. Dietro ogni lavoratore c'è una famiglia, spesso caratterizzata da monoreddito. A nessuno sfugge quindi il dramma che si sostanzierebbe per decine di famiglie qualora non si cominciasse un processo di stabilizzazione di tutto il personale interessato. I sindacati, nella propria autonomia e da ulcere a qualsiasi condizionamento politico e partitico, chiedono alla politica tutta un forte interesse a questo problema, un impegno partecipativo ed attivo che deve proseguire fino alla risoluzione del problema. L'incontro di domani sarà occasione per ribadire all'amministratore unico annose questioni sollevate dai sindacati e che ad oggi restano ancora senza risposte. Dalla organizzazione del lavoro alla erogazione dei buoni pasto, dal lavoro straordinario alla sua retribuzione. In ultimo anticipano fin d'ora il ricorso ad ogni azione necessaria a garantire il mantenimento di tutti i livelli occupazionali e i livelli qualitativi dei servizi che vengono erogati. La Shoah raccontata a teatro, due gli appuntamenti che oggi hanno portato dai libri di storia sui palchi avezzanesi la storia dell'Olocausto, con il plauso dell'assessore alla cultura Pierluigi Di Stefano. Sia il Teatro dei Marsi, con il Teatro dei Colori, ed il Teatro Eidos, che il Castello Orsini, con il gruppo Jobel, in collaborazione con il Volo del Coleotto Teatro Marsica, hanno ospitato tanti studenti per mettere in scena storia e memoria di un passato che non va taciuto attraverso due spettacoli capaci di raccontare ciò che rimane inenarrabile, gli orrori e le storie della Shoah. Sulle scene del Teatro dei Marsi è stata raccontata la musicista di Auschwitz, mentre al Castello Orsini si è tenuto memorie, racconti, canzoni e memorie della Shoah. La partecipazione emotiva degli studenti alle rappresentazioni teatrali, che hanno ricordato uno dei momenti più bui della storia dell'umanità, è l'aspetto che più mi fa sperare in un periodo storico in cui purtroppo siamo soggetti a tanti olocausti che si manifestano sotto una nuova veste, ha affermato l'assessore Di Stefano. La giornata della memoria si celebra il 27 perché in quel giorno le truppe alleate liberarono Auschwitz. L'apertura dei cancelli, dei campi di concentramento, solo allora mostrò al mondo intero la portata del genocidio. E se in quel buio periodo storico qualche uomo illuminato e coraggioso non si è girato dall'altra parte spalancando le porte delle proprie case, chiese e scuole per salvare anche un solo essere umano. L'auspicio è che anche oggi, in cui nuove forme di olocausto pervadono le nostre coscienze, l'indifferenza non ci spinga a voltarci dall'altra parte. Una clausola sociale di completamento sia per la continuità lavorativa sia territoriale e l'abbattimento del costo del lavoro per le aziende attraverso l'attivazione di bandi regionali a valere sul fondo sociale in dotazione alla Regione Abruzzo. Queste le proposte che sono emerse stamani nel corso di incontro con RSU e sindacati provinciali del comparto call center CGL Cisluil, UGL Cisan, convocato dal Movimento Civico Azione Politica e da cui ha preso parte il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Il comune, ha dichiarato il sindaco Biondi, non ha competenze specifiche, ma rappresenta anche una comunità di circa 1.500 lavoratori impiegati nel settore, solo nel capoluogo abruzzese. Domani si terrà un incontro al Ministero del Lavoro per discutere dello spostamento dei 34 dipendenti della ECAR. A seguito della riunione di domani, a proseguita Biondi, chiederemo di vedere il sottosegretario al lavoro per avere risposte circa il dossier consegnati due volte al Ministro Di Maio in occasione delle sue visite. È il costo del lavoro ad incidere sulla scelta delle aziende, ha spiegato il coordinatore regionale di azione politica Gianluca Zelli. La regione Abruzzo dovrà, come già accade in altre regioni tipo la Puglia, emanare dei bandi che vadano nella direzione della decontribuzione, così da aumentare l'attrattività dei nostri territori. Siamo a disposizione, ha concluso Zelli, rivolgendosi ai sindacati per costruire insieme un percorso di tutela della collettività aquilana. Nella mattinata odierna, presso la sede di Confartigianato Avezzano, si è svolta l'assemblea ordinaria del Comitato Provinciale ANCOS di Avezzano, cioè l'Associazione Nazionale Comunità Sociali e Sportive per il rinnovo del Consiglio Direttivo. Riconfermato è il presidente Ulderico Di Meo e nominato segretario provinciale Federico Falcone. Eletti come consiglieri Federico Falcone, Marilena Terra, Annalisa Biocca, Maria Teresa Valentini. Questo rinnovo rappresenta il primo passo verso una serie di nuove attività che segneranno gli anni a venire, ha dichiarato entusiasta e ne ha riconfermato il presidente Di Meo. Infatti, grazie al coinvolgimento di forze più giovani e dal passo con i tempi moderni, l'ANCOS sarà capace di confrontarsi con il mondo attuale attraverso l'inventiva, la fantasia e la diversa cultura che caratterizzano le nuove generazioni. Garantendo la nostra vicinanza ed una sempre maggiore crescita, saremo ancora più vicini alle nuove generazioni e alle esigenze del territorio attraverso un concreto impegno nel mondo sociale e non solo. La società moderna, che ad oggi ha ritmi sempre più frenetici, vuole aprirsi a nuovi orizzonti e a nuove personalità che possano operare in modo dinamico sul territorio. Da qui la scelta e la necessità di inserire nell'organico ANCOS figure che siano in grado di comprendere le moderne esigenze e di portare avanti progetti che richiedano nuovi modelli comunicativi tra il passato ed il presente. Venerdì 25 gennaio alle ore 18 a Palazzo Camponeschi L'Aquila presentazione del volume edito da Cars Edizioni L'Aquila, la città ed il nuovo millennio. Tra gli autori Donatella di Pietrantonio, vincitrice del premio Campiello, Carlo Cambi, già direttore dei Viaggi di Repubblica, la rettrice Paola Inverardi, il rettore Eugenio Coccia e Stefano Ragazzi. La prefazione è di Sergio Rizio, vice direttore della Repubblica. Saranno presenti gli autori Roberto Aloisio, Mario Centofanti, Maurizio D'Antonio e Marianna Gianforte. Cordia, Oscar Buonamano, direttore editoriale di Cars Edizioni. La presentazione del volume è lo spunto per parlare del ruolo della grande impresa nella ripresa economica e sociale della città dell'Aquila, si specifica in un comunicato. Un parterre di alto profilo, moderato dal direttore editoriale di Cars, Oscar Buonanno, che discuterà partendo dai temi proposti dal libro del futuro dell'Aquila. Il volume è il risultato di un lavoro collettivo sia da un punto di vista fotografico, sia da un punto di vista redazionale e nasce dalla necessità di raccontare gli ultimi dieci anni della città e la sua rinascita, che pur non essendo stata facile, rappresenta, a detta di molti, un riferimento a livello europeo. Il volume, con test in italiano ed inglese, racconta tutto questo. Racconta di come la comunità si è stretta attorno a valori comuni e, grazie al saper fare di gran parte della sua classe dirigente, ha imboccato una strada che l'ha portata ad essere oggi più bella e sicura di prima. Il merito di questo processo virtuoso, lungo e non ancora terminato, va ripartito tra tante persone ed istituzioni che, seppur nella parzialità di ogni opera di ingegno, porta con sé. Una ruola di primo piano nel complesso processo di ricostruzione lo ha avuto il sistema dell'istruzione universitario ed in particolare l'Università dell'Aquila con l'arrettrice Paola Inverardi in prima fila. Un capitolo è dedicato proprio a questo, la città della conoscenza, ed è stato scritto proprio dall'Inverardi con Eugenio Coccia, rettore del Gran Sasso Scienze Institute e da Stefano Ragazzi, direttore dei laboratori nazionali del Gran Sasso. Ci sono poi gli aspetti legati alle questioni che attengono a ciò che accadrà e la nuova tecnologia di 5G. Di grande rilievo le testimonianze di Simone Cristicchi, attuale direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, e Paolo Fresu, il grande mucisista che ha portato all'Aquila il meglio della musica jazz. L'Istituto Abruzzese per la Storia della Resistenza, Jarskic, in occasione della Giornata della Memoria, studiata dall'ONU allo scopo di commemorare le vittime dell'Olocausto, organizza un evento di studio, confronto e riflessioni dal titolo Il mio nome è 174.517. lunedì 28 gennaio, alle ore 10.30, nella sala ipogea di Palazzo delle Biciclo, gli studenti delle scuole aquilane ascolteranno le testimonianze di Carlo Fonsi, presidente di Jarskic, e Carlo De Matteis, professore di letteratura italiana ed autore del volume Dire l'indicibile, la memoria letteraria del Shoah. L'incontro sarà moderato da David Adakev. De Matteis in particolare si soffermerà sulla figura di Primo Levi, sopravvissuto ad Ausrich ed autore di Se questo è un uomo. Parteciperanno i ragazzi dell'Istituto Statale di Istruzione Superiore Andrea Bafile, della Medeo d'Aosta, del Convitto Cotugno e della Scuola Mede D'Anti Alighieri. L'evento è patrocinato dal Consiglio regionale dell'Abruzzo e dal Comune dell'Aquila. Bene, prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione del telegiornale la potrete rivedere integralmente sul nostro sito internet www.antenna2tv.it, sulla pagina Facebook Antenna2 Avezzano, dove sarà possibile rivedere anche i vecchi servizi che Antenna2 ha realizzato nel corso degli ultimi anni. Grazie e della gentile attenzione a sentirci alla prossima edizione del telegiornale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.